Il mio nome è Generale Zod. Ho viaggiato attraverso un'oceano di stelle per raggiungervi e raggiungervi. Per un certo tempo il vostro mondo ha dato rifugio a uno dei miei cittadini. Sembrerà uno di voi, ma non è uno di voi. A chiunque sappia dove si trova in questo momento dico il destino del vostro pianeta è nelle vostre mani. A Kal-El dico questo. Arrenditi entro 24 ore o questo pianeta ne pagherà le conseguenze. Non puoi vincere. Per ogni umano che salverai ne uccideremo un milione. Io non li tradirò. L'hai già fatto. Grazie. 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 Grazie.